Non si è fermato il lavoro di sostegno portato avanti dall'Associazione Cherikman nei confronti dell'Ucraina e da tempo al centro di un tremendo conflitto. A questo lavoro si è unita anche l'Associazione Salam di Isola del Gran Sasso, scorte di farmaci dal terramano per le popolazioni ucraine, ma anche fondi aiuti per paesi come Libia e Palestina. L'Associazione Cherikman non si è mai fermata, anche se l'attenzione poi si è abbassata di molto sulla questione dell'Ucraina. State preparando proprio un ulteriore camion che partirà oggi? Sì, uno avanti ieri, uno oggi. Stiamo approfittando il più possibile, non solo sono mesi invernali tremendi per quanto riguarda la temperatura, ma il problema, come dicevi, è che adesso con altri conflitti, con Gaza e quant'altro, con tutto il diritto di attenzione, l'Ucraina sembra non ci sia più niente. Invece in realtà tra nuove questioni militari, nuovi attacchi, è terribile. La situazione diventa sempre più grave, continuiamo a correre, a portare roba. Con i nostri ragazzi siamo stati la settimana scorsa a Kherson, hanno scampato per un pelo un colpo di mortaio, grazie a Dio, ma la situazione è davvero drammatica e continuiamo a portare roba perché se non lo facciamo veramente avremo tante vittime e non necessariamente colpa delle bombe. Un lavoro fatto anche in stretta sinergia con l'Associazione Salam, state anche lavorando per gli altri conflitti come quello di Gaza? Assolutamente sì, lavorare con Salam è sicuramente un privilegio, hanno una grande esperienza per quanto riguarda i profughi, loro sono attivi anche in Meglio Oriente per quanto riguarda Gaza. Sicuramente qui abbiamo un'ottima collaborazione sia nell'accoglianza degli ucraini ma anche nella gestione di tutta un po' l'ospitalità, mandano i loro ragazzi per aiutarci a caricare, lavoriamo insieme per i documenti, insomma è un lavoro, una sinergia fantastica. Le associazioni continuano a chiedere un aiuto per non abbandonare le popolazioni in grande difficoltà. Pensare di mandare roba da Teramo a Gaza è impensabile soltanto per i costi di trasporto per cui sicuramente l'aiuto è di tipo umano, nel senso di forze risorse umane e quello finanziario ma non per altro, per cui continuiamo a lavorare, continuiamo a raccogliere roba qui giù alla Gammarana, continuiamo a inviarla, continuiamo a mandare tir, aiutateci, aiutateci come potete. Grazie a tutti quelli che stanno tenendo duro, che non mollano, che continuano ad esserci vicini, che continuano a pensare che ci siamo e che continuiamo a denti stretti con i nostri incredibili volontari ad andare avanti, non ci fermeremo. Ogni lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30 d'inverno e le 19.30 d'estate ci siamo sempre perché la gente ha bisogno e purtroppo il mondo non ne parla più.